La corruzione rivela una condotta antisociale tanto forte da sciogliere la validità dei rapporti e quindi poi i pilastri sui quali si fonda una società. La coesistenza fra persone e la vocazione a svilupparla. E' quanto scrive Papa Francesco nella prefazione al libro-intervista del Cardinale Tarkson con Vittorio Alberti dal titolo Corrosione, in uscita oggi. La parola corrotto, sottolinea il Papa, ricorda il cuore rotto, il cuore infranto, macchiato da qualcosa, rovinato come un corpo che in natura entra in un processo di decomposizione e manda cattivo odore. E allora sentiamo i dettagli nel nostro servizio. La corruzione è il linguaggio più comune anche delle mafie e delle organizzazioni criminali nel mondo. Lo scrive Papa Francesco nella prefazione al libro-intervista del Cardinale Tarkson. Si tratta di un processo di morte che dall'infa alla cultura di morte delle mafie e delle organizzazioni criminali, prosegue Francesco, secondo il quale c'è una profonda questione culturale che occorre affrontare. Il Papa la formula così. Oggi molti non riescono anche solo a immaginare il futuro. Oggi per un giovane è difficile credere veramente nel suo futuro, in qualunque futuro, e così per la sua famiglia. Questo nostro cambiamento d'epoca, tempo di crisi molto vasta, ritrae la crisi più profonda che coinvolge la nostra cultura. In questo contesto va inquadrata e capita la corruzione nei suoi diversi aspetti. Ne va della presenza della speranza nel mondo, senza la quale la vita perde quel senso di ricerca e possibilità di miglioramento che la rende tale. Siamo tutti molto esposti alla tentazione della corruzione e il grido d'allarme di Francesco. Anche quando pensiamo di averla sconfitta, essa si può ripresentare. La Chiesa deve ascoltare, elevarsi e chinarsi sui dolori e le speranze delle persone secondo misericordia, e deve farlo senza aver paura di purificare se stessa, ricercando assiduamente la strada per migliorarsi. Infine dobbiamo parlare di corruzione, denunciarne i mali, capirla, mostrare la volontà di affermare la misericordia sulla grettezza, la curiosità e creatività sulla stanchezza rassegnata, la bellezza sul nulla. Noi, cristiani e non cristiani, siamo fiocchi di neve, ma se ci uniamo possiamo diventare una valanga, un movimento forte e costruttivo, assicura Francesco. Ecco il nuovo umanesimo, questo rinascimento, questa ricreazione contro la corruzione che possiamo realizzare con audacia profetica. Dobbiamo lavorare tutti insieme, cristiani e non cristiani, persone di tutte le fedi e non credenti, per combattere questa forma di bestemmia, questo crancro che logora le nostre vite, l'invito del Papa. È urgente prenderne consapevolezza e per questo ci vuole educazione e cultura misericordiosa, ci vuole cooperazione da parte di tutti, secondo le proprie possibilità, i propri talenti, la propria creatività.